Per risolvere gli annusi e numerosissimi problemi che affliggono Taranto occorrerà in caso di vittoria una squadra di governo all'altezza. La scelta di Piero Bitetti, candidato sindaco, mi ha motivato anche per quello. Credo che Piero sia forse l'unico candidato sindaco che viene dall'amministrazione, proviene dall'amministrazione. Quindi già il 12 giugno Piero Bitetti saprà cosa fare, saprà cosa mettere mano. Con lui la squadra di governo che lo affiancherà. Io sono stato a sessore fino a qualche mese fa, conosciamo le dirigenze, i problemi, ma soprattutto conosciamo anche quello che abbiamo lasciato e che possiamo portare a compimento immediatamente da giugno. Taranto avrà un signo che è un'aggiunta operativa forte sin dal primo momento, non si perderà tempo a guardarsi intorno e a capire dove mettere le mani.